Salve a tutti, eccoci qua con il video del software tridimensionale. Finalmente è arrivato e quindi ora ci possiamo sbizzarrire a crearci le nostre scatolette. Qui ci troviamo nella pagina del sito di Simone www.creativamenteplotter.it e siamo alla pagina Tutti i prodotti, scendiamo giù e ci troviamo questa icona. Clicchiamo, ci apre la pagina dove possiamo acquistare la licenza. Quindi voi acquistate la licenza, una volta che avete acquistato da lui, entrate nel sito della Silhouette America e vi scaricate il software e mettete la licenza che vi ha mandato Simone. Così lo avrete in italiano. Mi raccomando, dovete prima comprare la licenza e poi scaricarvi il programma. Bene, detto questo, entriamo nel software. Il software appena aperto si presenta così. C'è l'area di lavoro dove creeremo i nostri 3D e l'area anteprima dove vi fa vedere come viene tagliato, posizionato e tagliato l'oggetto. Qua abbiamo tre icone e questi sono tre modi di vedere la nostra area lavoro. Questa è in mezzo ed è l'area dove elaboreremo il nostro 3D e l'area anteprima dove si vedrà, come ho detto, il lavoro. Se clicchiamo qua avremo solo l'area per il 3D, mentre se clicchiamo in quest'altra avremo solo l'anteprima. Queste freccette, vi faccio vedere, serve per aggiungere pagine. Però è anche vero che se elaboriamo un'immagine molto grande, automaticamente ci mette più pagine. Ora vi faccio vedere, si mette sia sotto che di lato. Ora ritorno alla modalità iniziale e andiamo nella nostra area di lavoro e anteprima. Qui abbiamo un menu, quindi passando sopra vediamo quello che fa il programma. Una toolbar di base. Per averla avanzata dobbiamo andare in tools e facciamo avanzata. E vedete che ha messo altre icone, quindi è più facile lavorare e più facile trovare le cose. Qui abbiamo una barra dove ci sono tutte le nostre figure. Qui abbiamo delle figure con una freccetta sotto. Vedete, possiamo fare tante forme. Questo uguale. Vedete, io ho cliccato in questo e qui me l'ha elaborata. Vedete, ora cancelliamo. Poi c'è queste tre icone qua. Apriamo, vediamo, abbiamo diverse figure già preimpostate. Cioè io clicco e già mi dà la figura. Vedete, poi logicamente se voglio farla più grande lo devo selezionare e da questi punti già bianchi, quadrati bianchi, lo alziamo e lo allarghiamo di quanto vogliamo. Vedete, vedete che questo qui, essendo già un'immagine molto grande, ha messo quattro pagine che poi comunque non ci sta neanche perché qui fuori esce. Ora, cancello. Ritorniamo. Poi, se clicchiamo qua, ci dà delle cartelle. Dentro queste cartelle troviamo delle immagini. Qui troviamo, per esempio, un pezzo di strada, ma questo serve per formarci, diciamo, la base per costruire un paesaggio in 3D. Qui abbiamo le strade, se andiamo qua abbiamo le case, vedete? Poi ritorniamo su, anche questo ci sono altre case. Poi ritorniamo su e qui abbiamo dei veicoli, vedete? E qua vengono posizionati in modo da essere ritagliate. Ora cancelliamo. Chiudiamo questa. Ma io voglio fare una scatola. Qui si può anche decidere di farla colorata, tintunita, ma il bello è che possiamo mettere anche delle texture. Ora vi faccio vedere. Io prendo il cubo, disegno il mio cubo. Vedete? Questo è grande. Mi ha preso tante pagine. Vedete? Allora, decidiamo di farlo in una quattro, perché poi andremo a stamparlo. Vediamo di tornare. Ok. Quindi questo sarebbe troppo, troppo grande messa in questa maniera. Possiamo provare a girarla. E così ci sta bene. Infatti con un foglio di A4 abbiamo girato l'immagine e ci sta perfettamente. Certamente non viene una scatola esageratamente grande. Però, cosa voglio? Io posso volerla colorata e allora clicco dove sono questi colori e io, vedete, la posso fare rossa, verde, rosa, come mi pare. Logicamente va stampata. Io ne voglio mettere una texture, quindi dove vado? Vedete che ci sono tre quadrati qua. Clicco in questo e mi apre la finestra delle texture e qui ne troviamo un'infinità. Io scelgo queste. Mi piacciono i poids. Vediamo questo. Vediamo questo. Facciamo questo. Quindi, noi dovremmo andare a stampare prima di tagliare, logicamente, che viene stampato con la nostra texture. Come dobbiamo fare? Sapete che quando viene stampato dobbiamo mettere anche i crocini. E questo lo mette. Però, mi raccomando, fate attenzione, perché per far sì che vengono stampati i crocini, dobbiamo andare in file. Da questa icona qua, vedete qui c'è scritto no registrazione, quindi dobbiamo andare in questa sopra. Questo lavoro potete anche salvarlo per tagliarlo o per modificarlo in Silhouette Studio. Come fare? Andiamo in file e facciamo esporta rete. Vedete, ve lo mette in formato SVG. Quindi voi date il nome, lo salvate e lo aprite con Silhouette Studio. Adesso io faccio nulla. Ok, ora andiamo a stamparla. Quindi, io ho acceso la Silhouette. Anzi, apriamo da... Clicchiamo sulla Silhouette. E qui dice per stampare, cliccare per stampare. Ora io clicco e faccio la stampa. Qui mi viene fuori dove dovrei mettere il nome della mia stampante, ma faccio ok. Mi apri questa finestrella, la mia stampante è un Epson, faccio ok e vedete che sta stampando. Ora, per settare, faccio continua. Logicamente questo lo potete fare solo con la Cameo attaccata, che vi riconosce la Cameo 3. Se andiamo qui, vediamo il setting. Io lascio deselezionato questo. Ha il tappetino il 12x12. Metto questa perforare le linee di piegatura, cioè dove voglio che la scatola sia piegata. Questo invece marca le linee di piegatura, però io lo voglio fare perforata nello strumento 1, perché la lama sarà nello strumento 1. E mi raccomando, scegliete lama automatica, perché è quella che è in dotazione con la Cameo 3. Andiamo in quello sotto, taglia il perimetro utilizzando le seguenti impostazioni, lascio così come sta, metto anche in qui lama automatica, non doppio taglio, perché vanno bene così, e togliamo questa pagina. Ritorniamo da quest'altra parte. Ora vado a prendere la mia stampa e lo metto nel tappetino, che poi vi farò vedere. Bene, vedete, io ho messo nel tappetino la stampa e questi sono i crocini. Vi volevo far vedere questa, questa è l'altra che avevo stampato. Quello che vi dicevo, vedete, questo disegno va troppo vicino al crocino, quindi forse sborda e non me l'ha tagliato, non mi ha registrato i crocini. Quindi mi raccomando, guardate la differenza tra queste due, questa che è molto più in giù rispetto a questa. Questa non me l'ha tagliata e questa adesso andremo a vedere che mi leggi i crocini e me la taglia. Quindi, apro la silhouette, carico. Ora ritorniamo dall'altra parte che vi faccio vedere come farla partire dal programma del software tridimensionale. Ecco, ora che abbiamo fatto leggere i crocini, scusate di stamparla, ci dice di continuare. In questa finestra invece ci fa leggere i crocini. Quindi, clicchiamo qua, vedete, sta leggendo i crocini. Meglialetti bene, quindi facciamo, clicchiamo qui per tagliare. Ed ecco qua che ora sta tagliando. Ed ecco qua che ora sta tagliando. Vedete? Taglia e mi marca le parti. Ed ecco qua la nostra sagoma tagliata. Vedete? Vedete? Eccola qua. la nostra scatolina. Ora la pieghiamo e poi la proviamo a montare come viene, ok? E ve la faccio vedere finita. Ecco qua la nostra scatolina montata. Vedete? In poco tempo. E questa è la scatola. Vedete? È molto facile farla. Taglia perfettamente, anche con i crocini. Vedete? Bene, io spero di essere stata abbastanza chiara. Che questo video vi sia di aiuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e ciao al prossimo video! iscrivetevi al mio canale. Grazie.